Benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Carly e questo ovviamente è Cimia Oggi ci troviamo nella Big Vanilla perché come vi ho promesso almeno 80 episodi fa Vorrei sistemare la mia casa perché fa schifo Cioè non è che faccia schifo 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 Però il problema è che io l'ho fatta in 4 ore e mi sono concentrata principalmente sugli esterni E gli interni Sono brutti Ho addirittura dei buchi nel pavimento, nel soffitto insomma Vorrei un attimo sistemarla una volta per tutte con voi E vorrei fare anche uno spazio per incantare le armature Piano piano ci arriveremo, iniziamo un po' dalla libreria, cerchiamo un po' di decorare E innanzitutto abbiamo una piccola novità nella mia casettina dolce e carina Ho formato solo questi, si buona Light Grazie Light Oh l'apprezzo tanto anche perché ragazzi come ben sapete io non sto tryhardando nei regali Io faccio dei regali carini che vengono dal cuore Non ho intenzione di tryhardare 8 ore su Minecraft per fare i regali per tutti Grazie mille Light Quindi sì i miei regali saranno meme e non troppo seri Non vi aspettate chissà cosa Sono solo sincera Pepe! Pepe bellissimo, l'ho adorato ed è il regalo di Ale Tant'è che Pepe in realtà nella vita reale gliel'ho regalato io Però dettagli Allora innanzitutto siccome voglio mettere un po' di librerie e fare cose carucce carucce Facciamo un attimo riprodurre le mucchine Venite qua mucchine I maialini Anche se loro non mi servono un gran che però vabbè ormai finché ci siamo Le galline Chi è che me le ha dimezzate le galline? È stato Kendall Chi vuoi che sia stato? E le pecore Facciamo un po' riprodurre tutti così siamo a posto Allora dobbiamo un attimo estendere queste coltivazioni di canna da zucchero Perché avremo bisogno di tanti libri Quindi facciamo tutta la costa di canne da zucchero Perché no? Voilà E direi che adesso con i diamanti di Light Che in realtà si rivelano utilissimi Calzano proprio a pennello Light Se stai guardando questo video Mi ci faccio un'ascia Perché non ho materiali Non ho diamanti Non ho ferro Però non me l'adoro più incantata Quella sì Gli ho presi i diamanti sì Dai ci faccio un'ascia Visto che mi serve devo ristrutturare casa Nel frattempo nel server siamo io, Light e Nico Allora togliamo tutto questo Allora sì, piano di sopra sicuramente ci faccio la camera da letto Ma è più carina Perché così non ci siamo Non ci siamo proprio Non so cosa mi sia venuto in mente di utilizzare le lastre per fare questa parte Comunque troverò un modo anche per chiudere questa parte di casa E poi mi sembra giusto continuare a fare un altro pochettino i regali Almeno a Light Dai poverina che mi ha fatto il regalo Io ancora non gliel'ho fatto Strano ma vero Ogni anno a Natale siamo messi in questo modo Tutti mi fanno il regalo Io ancora non ho fatto nulla a nessuno Praticamente Intanto sono curiosa di sapere E fatemelo sapere qua sotto dei commenti Come passerete voi il Natale Io sicuramente lo passerò dei nonni Con Ale Sono curiosa di sapere cosa farete per le feste Se andrete in vacanza Se farete una cosa tranquilla a casa Fatemelo sapere Io sarò a casa comunque Molto probabilmente Allora in realtà Non ci stanno male le lastre Se le lascio solo ai lati Ho appena realizzato questa cosa Oppure farebbe schifo Sto cercando di capire un ottimo cosa fare della mia vita Grazie a Dio Marci l'ultima volta mi ha lasciato tantissima roba Quando ha costruito cimmia e quindi ho tantissime cose da piantare Chi va là Dove? Dove sei? Ragazzi ho avuto un'allucinazione Oppure non ho scritto? Ah no è qua è qua Oh Allora A proposito Io ho affinatezza E aspetto di fuoco della spada Non vorrei dire Ahia L'ultima volta l'ho un po' incantata Per fortuna era ora Allora mettiamo questo qua Questo qua Sapete cosa mi è venuto in mente? Che per Steph e Fere magari potrei fare una costruzione Tipo una mini buildax Fatta di bambù Di un gatto E la caccio fuori casa Secondo me può funzionare Gli potrebbe piacere Allora proviamo a fare una roba del genere Che voi direte Ma Carly che cosa cambia? Cambierà tutto Cambierà tutto Quello che c'era prima non mi piaceva Le lastre mi hanno triggerata E non so perché le ho messe Proprio una cosa che mi chiedo Sin dall'inizio di questa vanilla Non avevano senso Ma in realtà tutta la struttura di questa casa è strana Guarda qua Come dovrei chiudere tutto questo? Un modo però bisogna che lo troviamo Cioè dobbiamo trovare assolutamente una soluzione Non posso rimanere con una casa pezzente così tanto nella Big Vanilla Qua me la cavo così E così Eh vabbè pazienza insomma Scenderà un pochettino da lì Si può scendere? Qua dovrò mettere delle scale mi sa E tra l'altro ho letto tipo due o tre commenti Che dicevano che questo tavolo è brutto E che devo assolutamente rifarlo Quindi vabbè cogliamo l'occasione Facciamo tutti felici Perché mi convinceva il giusto anche a me sinceramente È troppo grande questo tavolo E lo rifacciamo Di qua togliamo questo così finalmente posso iniziare a chiudere questa parte qua Ma possibile che non abbia del pietrisco da nessuna parte Ah eccolo Allora faccio un attimo le scale molto brutte molto al volo Perché queste le voglio mettere qua Mi triggerà tantissimo questo spazio fatto così Ah triggerà ancora di più Come si copre questa cosa? Cosa posso fare? Oh mio dio Oh mio dio Calma 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 Allora 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 Sono io la probilder qua Dico bene o dico giusto Quindi datemi un attimo per risolvere questo casino che ho appena fatto Se io facessi una cosa del genere Fammi vedere Forse riusciamo a cavarcela così Beh Ecco Forse così un po' l'ho sistemata qua Però non mi piace Forse dovrei spostare leggermente le scale Questo lavoro richiederà tantissimo tempo Ma sono intenzionata a farlo oggi Quindi poche storie mettiamoci all'opera E a questo punto questa porta qua strana la potrei spostare di qua Mi sembra l'unica soluzione plausibile al momento Per forza Dunque abbiamo un paio di novità È passata circa mezz'oretta da quando ho messo il video in pausa E ho rifatto totalmente le scale Ancora sinceramente non mi fa troppo 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 impazzire questa soluzione Ma è l'unica che sono riuscita a trovare Ho deciso di fare anziché un'uscita secondaria da questa parte E farla qua dietro Così che poi qua potremo fare un terrazzino fatto meglio E qui adesso ho deciso lo stesso di lasciarla aperta Ci farò semplicemente una vetrata Qualcosa di un po' particolare Vediamo cosa riesco a fare Ho tolto il tavolo e ho sistemato questo libro qua Che è il libro del Big Ladro Che appunto è un premio Quindi bisogna averlo qua in bella vista Bisogna smeffeggiare tutti quanti E far vedere che invece noi siamo stati il gruppo che ha vinto E inoltre ho già fatto anche una libreria qua Che in realtà non so bene dove metterla Pensavo di metterla qua Ma al tempo stesso voglio anche decorare tanto il piano di sopra Perché è proprio brutto E non lo riesco a vedere Allora detto ciò adesso Mentre aspettiamo che il vetro finisca Beh in realtà possiamo già iniziare Vorrei andare in miniera Ne faccio solo 16 perché voglio prima vedere come viene Perché se viene una schifezza allora non lo faccio questa roba Vorrei provare un attimo a fare una piccola costruzione Intanto da Steph e Fere del gatto Vediamo se riesco a fare qualcosa Intanto provo a chiudere qua E poi finiremo di sistemarlo prossimamente Intanto c'è già stato qualche progresso E questo è l'importante Finalmente si può camminare in sicurezza In questa benedettissima casa Nella Big Vanilla Allora facciamo così Mettiamo i pannelli Beh Beh Vi dirò Non mi sta dispiacendo fatta in questo modo Sapete? Mi garba Sapete che quasi quasi si la lascio veramente così? La preferisco molto di più Poi continuiamo un attimo Che voglio finire almeno lo spazio delle librerie E poi ci occupiamo del gatto di Steph e Fere Ho bisogno che le mucche crescano però Ok siccome ci vorranno almeno altri 10 anni Prima che tutte le mucche crescano Occupiamoci del regalo di Steph e Fere Seguirò una guida su internet su come fare un gatto Perché non voglio fare una schifezza E inoltre dovrei avere anche tanto bambù da qualche parte Forse qua fuori ne ho ancora abbastanza Fammi vedere Eh a voglia a voglia Ok utilizziamo questo Tanto in realtà vorrei fare più una build hack Che una mega costruzione Penso che abbia più senso Anziché provare ad azzeccare i colori di Nino, Leo e Camille Che sinceramente non me li ricordo Li faccio direttamente una statua di bambù di un gatto Così ce la caveremo in questo modo Credo di non avere abbastanza bambù Ma va bene lo stesso Intanto un attimo che faccio riprodurre le mucche Che mi serviranno Allora andiamo intanto a casa di Steph e Fere Tanto di bambù Scommetto Ci scommetto quello che volete Che ne avranno tantissimo Quindi magari lo rubo Un pochettino da loro Ah ma hanno già Nino qua Oh che carino Wow Quante cose interessanti Hanno sistemato proprio tutto Questo non assomiglia per niente a uno dei miei magazzini Guardate quanto è tutto estremamente ordinato Bambù Ne hanno pochissimo Steph non sei tu il re del bambù E perché ne è così poco Beh prendo in prestito il letto di Steph e Fere Dormo qua questa notte E poi iniziamo la piccola statua Come cavolo si esce Dunque la statua dove Ma Ma in che senso Sputtacchiotto Ma come hanno fatto a vestirlo così È possibile Non sapevo neanche se potesse fare Allora per Steph e Fere Direi di fare un gatto qua Questo è Garibaldi ci scommetto È Garibaldi ottavo No Non hanno la name tag ancora Direi che ci possiamo mettere qua Così non sono troppo di intralcio Alla loro casa E quando escono Possono vedere una bellissima statua Di un gatto Allora per prima cosa Non so se farlo seduto Sapete che forse seduto è meglio Proviamo a farlo schizzo Gliela faccio tutti in bambù Non vi aspettate chissà cosa Perché appunto Non ci saranno troppi colori diversi E appunto per venire incontro Alle esigenze di Steph A cui piace tanto il bambù E a Fere A cui piacciono tantissimo i gatti Perché sento già che è brutta Prima ancora di iniziare Perfetto il mio lavoro qui è concluso Spero ovviamente che questo video No 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 Aspetta 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 Sembra un Iron Golem Questo gatto Perché è così brutto Datemi Datemi un secondino Posso migliorarla Sapete una cosa Magari per risparmiare sugli interni Potrei utilizzare La legna normale Ok Facciamo una salsiccia Vabbè questo gatto ragazzi Sarà meme Per forza Cioè non può venire bene Una roba del genere È fatto con il cuore Però sappiate questo Ho bisogno di tanto bambù E io so chi ne ha tantissimo E infatti Light è stata così Tanto gentile Ops 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 No È caduta Light è stata così Tanto gentile Da prestarci Tantissimo bambù Gli ne ho preso Veramente un bel po' Così siamo sicuri Ma dopo ovviamente Quello che mi rimane Glielo restituisco Così non mi sento in colpa Ok Torniamo un attimo A finire il gatto Avevo il terrore Che venisse troppo brutta Perché è piccola Effettivamente come costruzione Quindi la sto allargando Sto facendo una vera e propria costruzione E non più una buildax Come avevo in mente di fare Allora Sto seguendo un tutorial Così sono sicura Anche questo Di non sbagliarlo Faccio le zampe Larghe Tre blocchi Quindi uno Due tre Spazio di uno Uno Due E tre Ok Speriamo che adesso Tutto questo bambù Ci basti Ok Dubito fortemente Che ci basti Ah perché a me vado Sempre per la gara In queste cose Allora Uno Due Tre E quattro E gli facciamo Il petto davanti Quindi uno Due E così lo colleghiamo Magari qua dentro Lo riempio Con la legna Così non devo Sfruttare troppo Il bambù Questa sarà La testa E la facciamo Un po' Sporgente La testa In questo modo Ok Sta iniziando Un po' A vedersi Forse Forse E dico forse Questa Tecnicamente adesso Dovrebbe essere la faccia Gliela faccio sporgente Non è finita Non vi preoccupate Lo so che ancora Non è presentabile Lo so bene Datemi solo Un attimo C'è l'heading Che poverina Continua a cadere Da punti alti Sembro io A breve Questa cosa Che ha sotto Il musolo Fa sembrare Un pollo Mi sono già pentita Di aver fatto Questa costruzione Ragazzi Me ne sono pentita Tantissimo E siccome ancora Probabilmente Mi ci vorrà Un pochettino Per finirla Ci vediamo Non appena L'avrò finita Ragazzi Purtroppo Mi capita Spessissimo Di iniziare Una costruzione E poi cambiare Tutto quanto Ed è successo Anche in questo caso Sono passate Tantissime ore Dall'ultima volta Che ci siamo visti Ho tolto Tutto quanto E ho rifatto Tutto E devo dire Questa volta Il risultato È molto 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 Carino Signori Vi presento Il gattino Che ho regalato A Steph E a Fere Guardate Quanto è venuto bello L'ho fatto Tutto quanto In bambù Ed è stata Una tortura A reperire Tutto il bambù Infatti vedete Lì dietro ancora Un pezzettino Di foresta E scusa anche Light Ho dovuto rubare Dell'altro bambù Rubate veramente Tanti 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 Pezzi Mi dispiace tantissimo Ma per fortuna Il bambù Cresce molto Velocemente Inoltre ho voluto Aggiungere un piccolo Dettaglietto Sia fare un orecchietto Più alto E uno più basso Non so se ancora Mi convince Questa cosa Però Credo che renda Tutto ancora Più realistico Ragazzi Io spero Ovviamente Che questo video Vi sia piaciuto Mi raccomando Lasciatemi un bel Mi piace È gratis Non costa niente E soprattutto Lo apprezzo tantissimo Da Carly Da Cimia Che non potete vedere Ma è qua Ve lo assicuro È tutto E noi ci vediamo Prossimamente Con un altro video Ciao Ah e iscrivetevi Se non siete iscritti